Siamo giunti alla ottava edizione del Festival e quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo un ricco programma fra attività formative, laboratori per bambini e famiglie, spettacoli e anche un'opera d'arte condivisa, partecipata in cui speriamo di riuscire a coinvolgere tutta la città. Quest'anno l'appuntamento con Menoalti dei Pinguini è legato a un tema che ci sta molto a cuore, che è la pedagogia povera e della meraviglia. È un approccio pedagogico al quale ci piacerebbe ispirarci, ideato da un artista, Antonio Catalano, che sarà ospite al Festival e che interverrà sia al convegno iniziale, sia terrà durante tutta la giornata di sabato un'attività formativa per educatori e poi a seguire un laboratorio aperto alla città, quindi a bambini e genitori che vorranno interagire con i mondi fragili che lui avrà creato al mattino insieme agli educatori. Quando è nato questo festival e qual è la sua specificità? Allora, siamo all'ottava edizione, sono quindi otto anni che lo realizziamo cercando di coinvolgere tutta la città. Devo dire grazie anche al sostegno e al contributo del Comune di Arezzo che ci ha creduto fino dall'inizio. Progetto 5 gestisce alcuni dei servizi educativi per il Comune di Arezzo e quindi abbiamo cercato di portare nella città di Arezzo una riflessione, di riportare, perché poi la città di Arezzo è sempre stata un polo molto importante per quanto riguarda le riflessioni pedagogiche e quindi il festival aveva un po' questo, ha tuttora questo intento di stimolare e portare una riflessione sempre, come dire, aggiornata ai nostri tempi. Diciamo che per noi la base è sempre la centralità del bambino. Anche in questo festival, infatti, l'idea è quella di provare a recuperare, per noi adulti, tant'è che è un messaggio forse più per noi adulti che per i bambini, lo sguardo di meraviglia sulle cose, quello che i bambini hanno naturalmente e che gli adulti per riuscire ad accompagnare i bambini devono in qualche modo saper ritrovare, quindi lo stupore, la meraviglia, ma anche la fragilità di mettersi in gioco come educatori che un pochino abbandonano le loro teorie e si buttano nella relazione, nell'osservazione dei bambini. Ecco, questa è un po' la linea su cui si basa un po' il nostro lavoro. Ringraziamento a Progetto 5 che ci regala l'ottava edizione, un'edizione animatissima e piena di collaborazioni che dimostra come in questi due giorni Arezzo si candida ad essere la capitale della riflessione, ma anche dell'azione dedicata alle politiche 06, capaci di, come dice il titolo, vedere il mondo dall'altezza dei bambini. Ci sono attività con la danza, con le arti visive, c'è un grande evento finale domenica e vi invitiamo tutti alla pagina bianca. Dal pomeriggio verrà stesa questa grande pagina bianca in cui sarà possibile lasciare un segno, un messaggio colorato e si formerà, grazie all'artista Ivan Tresoldi, un'opera d'arte partecipativa che è un po' il gran finale. Tra l'altro sarà attraversata dalla parata dei bambini con una banda ad aprire, quindi è veramente il momento in cui chiamiamo tutti a partecipare e a rappresentarsi nella pagina bianca. E poi tante attività, laboratori, l'importante è che si sappia che sono tutti laboratori senza prenotazione, quindi potete venire direttamente e ci sarà sempre un posto per i bambini e le bambine per esplorare gli spazi educativi, per fare le attività, quindi veramente il desiderio è quello di accogliere tutte le famiglie in questi tre giorni dedicati appunto ai più piccoli.